Io credo che come sempre ci si confronterà sui programmi, sui progetti e su come cambiare la Sardegna e non ho dubbi sul fatto che lui abbia a cuore l'interesse dei sardi e della Sardegna quindi in questo senso sicuramente ci sarà la possibilità di poter lavorare insieme. Quello che però non è tollerabile, lo dico, è una campagna che è stata condotta con la diffamazione, è una campagna che è stata condotta con dei toni che a me sicuramente non appartengono. Io credo che la diffamazione sia l'arte gli strumenti di chi non ha altri argomenti quindi credo che se ci liberiamo da queste scorie si potrà ricominciare a parlare di cose concrete, di Sardegna e di progetti che interessano la Sardegna. La diffamazione lasciamo da altri.